saremo ricchi ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di minecraft dove ci troviamo beh semplice per prima cosa a parte trovarci in un mucchio di una serie siamo dentro la base dei devastated ora si devastated sia il nome che è anche la loro base per mente cosa è successo i devastated che però sono i terzi in classifica sono appena appena stati griffati e tagliate ne tramite quello guider che vedete lassù nella barra line line in alto quindi praticamente con quel video hanno fatto saltata la in aria tutta interamente la base ora cosa hanno detto visto loro stavano griffando mi hanno fatto telerasportare qui e e mi hanno dato la possibilità di farci un video sopra ecco come vedete quello la quello signorino messo la sotto il video ecco che in questo momento ci sta sparando ma veramente stiamo approfittando di questo leader e mo per distruggere la loro base infatti guardate che casino che c'è qua e questo sto posto pure lag laggando tra tra poco è che infatti ci può vedere ok quello ora andiamo a cercare qualche qualche altra stanza che ho visto da queste parti ho fatto una breve occhiata prima che qui c'era qualcosa che faccio vedere nel frattempo ii c'è in che come potete vedere è una base non dove ho grande difesa da mille mila 5 come come si è stato per vedere con faccini grandi comunque ecco qua ora andiamo a vedere da qui cosa c'è stiamo sempre attenti alla lava non vorrei andarci a finire dentro ma che c'è un cartello cosa c'è scritto ricorda e si è vabbè non so qualcosa con gli atene ok come ben andando qua c'è tanta lava come posso andare da la beh penso di arrivarci con un enderpearl quindi prima cosa manciamo questa mela d'oro non vorrei di cadere per sbaglio nella lava e andiamo a vedere se nello reale stress grief vendono l'ender pearl no non mi sembra quindi andiamo al andiamo da questa parte andiamoci a aspettare la home r e andiamo a casa nostra a prendere delle enderpearl allora dovrei averle in questo bowl e render per no neanche in questo forse sono nel lander cest andiamo a colpo sicuro ok ritorniamo la nostra home r ok stando sempre attenti alla lava ecco ogni tanto un colpo di lag ci sta benissimo se però riesco a liberarmi da qui ok perfetto prendiamo questa enderpearl e buttiamola subito là dentro ok a quanto pare hanno fatto un bel tetto pieno di minerali quasi quasi potrei sfruttare il video per farlo sfruttare in aria in aria ma non penso non penso proprio come c'è proprio bello prendiamo i blocchi gli schiaffiamo anche ecco vedete qua è wildernesse cioè vuol dire che basta andare un blocchettino più accanto voi già potete fare quello che volete cioè non so se è chiaro io posso mettere una tnt accanto a questa fornace va bene comunque continuiamo a vedere se ci sono altre stanze da qui o cazzo allora qua c'è il vuoto vabbè meglio non andarci qua sotto si vede qualche cosa come posso vederlo come posso vedere se c'è qualcosa senza accadere ma qui c'è una mappa con una nave viola quella della end city ok qua c'è altra lava e dei bauli da aprire ok ok qua è interessante anche qua a casa sinistra c'è un po di acqua sembra esserci in altra stanza nel frattempo per scendere qua sotto vediamo se andando da alta parte riesco a vedere qualcosa si sembra c'è un baule ok perfetto quindi a questo punto se mettiamo alla home qua sopra e scendiamo da sotto con un end per ma prima andiamo a sapere gli armaioli perché non ne ho nemmeno uno ecco io già immagino che come al solito questi armaioli verranno sprecati perché non vanno mai addosso al baule vanno sempre altrove allora dieci armaioli come al nostro solito ritorniamo alla home r e buttiamoci subito la dentro quindi cadiamo e apriamo questo baule vediamo cosa c'è sembra una sorta di forna zone automatico molto particolare a dove dove questa stanza non ha altre via di uscita quindi ritorniamo la nostra mer e continuiamo da qui a vedere cosa c'è ok l'acqua è tutto pieno di lava quindi mangiamo una bella d'oro e cerchiamo di andare dall'altra parte senza rimetterci la pelle ok si è piano 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 il tempo che muoio nella lava ok allora cosa c'è scritto ricorda e tramanda catene comando ok va bene apriamo questo bolo dio quanta roba quanta roba c'è in questo baule quanti meloni vabbè aspettare mangiare a me l'ador e questo morì dalla lava sarebbe un feglie se muoio qua dentro allora andiamo subito alla home ci svuotiamoci l'inventario che è tutto pieno di meloni ecco prima ecco nel fatto mi faccio un bagnetto per per evitare di brusare carrosto ok ritorniamo alla home r e ecco se in effetti potevo settare la la home da da alta parte vabbè a questo punto pulsante per per arrivarsi prima e per non morire e vediamo se mi ricordo che infatti ora setto la home r ok apriamo quest'altro baule ecco bello pieno di meloni come piace a noi questi di qua sono i soldoni ecco ora vorrei liberarmi l'inventario per prendermi quel stampo le d'acqua e convertire in liquori nel frattempo sto bruciando se non ci fate caso se ma aspettate che mangiate me la dora è che con queste fornaci non me la fa mangiare ok andiamo a vedere cosa c'è in queste che qualcosa si trova in questi baule quindi ok anche questo baule pieno se faccio notare anche questo baule è pieno se voi immaginate i soldi che facciamo con tutte queste fette d'angurie beh sono tanti sono tanti soldi ok c'è il primo baule l'abbiamo riempito ritorniamo la storm r e quasi quasi li converto in liquore d'anguria per fare più spazio ecco prendiamo pure questo baule comando stress di esse per chi non lo sapesse serve per convertire i le piantazioni che avete nell'inventario in in alcolici che potete vendere al warpo contrabbando ok quei quei meloni in alto non c'è verso rompiamo anche questo baule raccogliamo questi meloni ok però l'inventario è pieno quindi vorrei sfotarlo un pochettino ok ecco infatti prendiamo le nostre boccettine e facciamo il nostro liquore d'anguria ma andiamo a raccogliere altre angurie e continuiamo sempre a fare questo meccanismo fin quando non raccogliamo tutti 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 questi meloni ok quindi a questo punto la quella curiosità è che infatti come immaginavo cioè guardate quanti meloni ci sono quanti meloni ci sono quanti a questo punto la curiosità è in questi baule che ho davanti sono realmente tutti ma proprio tutti pieni di meloni perché se fosse così sarebbe una cosa bellissima e quasi fanno un casino di soldi c'è guardate quanti ho già riempito l'inventario di di come si chiamano di quelli cuori d'anguria se non so se ci state facendo facendo caso c'è di cuori d'anguria questi qua valgono un casino che svuotiamo tutte cose qua dentro la nostra home ecco per evitare per svuotare l'inventario no il pane no non lo volevo possare ok torniamo la nostra home r e continuiamo a rubare i loro meloni che hanno farmato con tanta fatica per dargli a noi è ovvio cioè perché loro che sapevano di dico ma mettiamo i meloni da parte così li diamo a espastro e almeno quando viene si può ripagare tranquillamente li ha come si chiamano gli armaioli ecco io però ora non ho più spazio in questi due bauli quindi torniamo alla home r non ho armaioli però dietro quindi vediamo come la migliori ci servirebbero o cavolo o questo questa stanza quanti bauli ci sono in quella stanza quanti quanti bauli ok andiamo a guarda armaiolo prendiamoci gli armaioli ne venderò come al solito una decina non di più e ritorniamo lì alla nostra home r home r ecco infatti e continuiamo ad aprire tutti questi ecco qua siamo guardate quanti meloni che hanno questi c'è una cosa assurda quanti meloni e anche questo baule è pieno ora vediamo se quello che ho detto prima è vero ovvero che questi baule qua davanti sono tutti pieni di meloni fino ad ora lo sono quindi fino ad ora le mie previsioni non si sono sbagliato ok non ho spazio per le bottiglie quindi devo liberarmi lo spazio nell'elementario andiamo alla nostra home c home c che si sta per riempire tutti questi bauli ok posiamo anche il liquore d'anguria questa roba che non ci serve minimamente ritorniamo alla nostra home r e cerchiamo di raccogliere gli ultimi drop che sono rimasti per terra e apriamo pure questo baule ok convertiamo in liquore d'anguria però non ho le boccettine quindi ok faccio così e me ne esco ok ho ancora cinque carmaioli da poter usare nel frattempo butto questa roba nella lava perchè non mi serve quindi le leviamo uno leviamo due ecco poteva essere che l'armaiolo funzionasse ovviamente no eh quando mai ok questi baule sono vuoti andiamo a vedere quest'ultimo a questo punto ok pure questo è vuoto mangio una mela d'oro e a questo punto raccolgo queste boccettine e vediamo cosa c'è da dentro ecco però questo in questo momento sto leggermente laghicchiando ma giusto un po ok mangiamo questa mela d'oro per non morire nella lava non vorrei che evitare di bruciare l'inventario intero qua dentro anche che sono sempre un casino ecco nel frattempo leo 3 è andato nel pvp dobbiamo stare che attenta che questo leo 3 fa parte dei devastated può essere ma può essere che lui venga ora nella sua fome a difendere e quindi noi dobbiamo fare una cosa molto 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 lesta non vorrei che mi killano soprattutto con tutto l'inventario è pieno di liquori di melone liquore d'anguria ce le mare è molto di merda allora mangiamo quest'altra mela d'oro tanto perché ne ho mangiate poco e cerchiamo di aprire questo baule vuoto e anche questo era vuoto ok ecco buttiamo un enter per qua dentro anche se non ce n'è realmente bisogno e incominciamo ad aprire questo baule ecco come al solito armaiolo non funziona ok come vedete con questo armaiolo ho rotto tre bauli non so se ci fate caso nel frattempo convertiamo questo di qua in liquore d'anguria e mi sa che in questa stanza ci vorrà moolto tempo a ripurirla da tutti questi baule specialmente usando come si chiama questo coso qua l'armaiolo ok settiamo la mera qua dentro intanto che per sbaglio l'ho settata 3-4 volte ok allora svuotiamoci l'inventario per raccogliere queste boccettine che sono per terra o le ampolle e convertiamo tutto in liquori d'anguria anche se ormai la parola liquori d'anguria in questo video l'ho detta troppe volte quindi da ora non dirò più liquori d'anguria ma dirò semplicemente convertire e basta ok raccogliamo questi meloni che sono per terra li droppiamo così o del spazio nell'inventario come voi avete già capito com'è che io sto facendo facciamo in questa maniera e continuiamo andiamo all'homec per prima cosa svuotiamoci l'inventario perché se no si riempie troppo velocemente ok quindi buttiamo tutto qua dentro tanto poi ci pensa jackson a sistemare si si probabilmente non lo farà mai che è molto probabile la seconda conoscendolo ok allora rimuoviamo anche questi baule noi continuiamo proprio cattivi a prenderci tutta la loro roba è ovvio c'è uno del telerasportato qui che fai la lascia loro no ti prendi tu comunque mi venirebbe anche la curiosità di andare a vedere questa base tra un po' se la oddio questo armaiolo ha rotto tre bauli due doppie casse e una cassa normale va bene bello questi armaioli c'è quando non funzionano mai e c'è quando funzionano troppo comunque stavo partito sarebbe curioso andare a vedere questa base se la riparano se la risistemano magari chi lo sa se vorremmo dare un altro occhio anche se diciamo che le coordinate le sono un po' tutti ok continuiamo apriamo questo baule ecco qua c'era ragazzi scrivermi nei commenti in questo momento secondo voi quanti soldi faremo stiamo facendo in questo momento anche se probabilmente lo avrò scritto nella copertia quindi non ha senso quello che sto dicendo in questo momento vabbè quindi stiamo in questa maniera e convertiamo il tutto ok ci rimangono due armaioli vediamo se questo baule ha roba prima cosa andiamo all'OMC e svuotiamo ecco questo di qua questo baule si sta per riempire se non quasi del tutto quindi nel frattempo è entrato Caprich ma Caprich non è è dei Devasted no no infatti Caprich è dei Johnny Hoppy che comunque sono alleati dei Devasted quindi stiamo attenti ugualmente ragazzi guardate quanti milioni meloni sono troppati per terra quante quante angurie quanti meloni cioè è una roba impressionante cioè è davvero impressionante nel frattempo buttiamo questa anguria su SDS e compattiamo il tutto ok finiamo di prendere anche questi drop e continuiamo con il resto degli armaioli quindi apriamo pure questo è vuoto ok questo è già andiamo al warp armaiolo per prima cosa sto dicendo questo questo qua il fatto che sia vuoto mi fa capire che in questo baule non c'è niente quindi prendiamo gli ultimi dieci ma ancora prendene assai non penso di andare a controllare tutti disegniamo l'omercie svuotiamo l'inventario come nostro solito fare questo è pieno questo baule è pieno anche questo baule è pieno e questo è pure pieno ecco ok mettiamo la roba qui fortunatamente c'è un un bricio di spazio dove mettere la roba disegniamo il nostro omr e continuiamo a rubare quello che c'è qua dentro allora da dove incominciamo in prima cosa incominciamo da qua vuoto questo qua è pure vuoto perché comunque hanno gli hopper che puntano ai bauli che abbiamo appena appena svuotato quindi ci sta anche questo qua è vuoto questo è vuoto anche questo qua è vuoto diamo un'occhiatina bello se non penso ci sia una ecco non ha solito un armaiolo se ne va così velocemente ecco ho scoperto che se io miro al centro del baule più o meno là dove c'è il lucchetto la la texture grigia del baule se voi puntate l'armaiolo in quel preciso punto si rompono entrambe le le casse e quindi risparmiate un armaiolo ma non sempre funziona tipo in questo caso non ha funzionato però prima ha funzionato comunque liberiamoci ancora una volta l'inventario ok vediamo anche questo baule cioè guardate che soddisfazione io non vedo l'ora di andare a vedere a vendere tutto questo melone e vedere quanto ci guadagno ecco ragazzi di vita scrive nei commenti quante volte ho detto in questo video melone anguria liquore d'anguria ok perché secondo me lo sto dicendo forse un po' troppo ma giusto un pochettino continuiamo convertiamo ok due armaioli questo di qua è vuoto questo di qua è pure vuoto ci rimangono altri bolli ma non penso di andargli a controllare tutti prendiamone un altro poco tanto per controllarli velocemente quindi alti 10 armaioli sperando che c'è 10 bene ne prendono anche di più ne prendono una ventina sperando che che funzionino tutti sperando che de de non sprecare armaioli però svuotiamoci l'inventario per prima cosa ritorniamo alla nostra home che in realtà R sta per raid allora fuori questo baule che è vuoto quest'altro è pure vuoto questo è pure vuoto quest'altro è pure vuoto anche questo baule è vuoto va bene rompiamo pure questo niente questo è vuoto questo è vuoto questo è vuoto ah no questo è pieno ok questo è ancora pieno quindi questo baule lo andremo a rompere ecco qua raccogliamo ancora questi meloni nel frattempo continuiamo a prendere a controllare i bauli quindi questo è vuoto va bene anche questo non contiene niente questo di qua è pieno cioè che in effetti ok convertiamo tutto ah proprio tutto ok questa baule non c'è niente questa baule non c'è niente continuiamo con il team 5 carmaioli molto velocemente quindi 3 2 non ha funzionato 1 un ultimo armaiolo dove lo buttiamo lo buttiamo qui ok e diciamo che questa zona rimane vuoto ora vado a vedere chi sono le altre stanze dove dove appunto vado a vedere se c'è che altra roba in altre stanze ok a quanto pare loro avevano questa piccola zona che comunque deve essere una o due stanze accanto niente di che e e ho dimenticato a prendere gli armaioli come al solito quindi mettiamo l'omr qua dentro e andiamo a prendere gli armaioli a warp armaiolo ecco la prossima volta me ne preparerò 50 c'è 50 armaioli mi porterò dietro 50 ok ritorniamo all'omr ok apriamo 1 niente 2 niente 3 vuoto vuoto anche questo era vuoto gli ultimi vuoto 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 e l'ultima baule ma non per importanza oddio qua un po' di merda c'è ok quindi ok quindi questo di qua era la loro base non hanno nient'altro non penso che abbia un altro a meno che non mi è sfuggito qualcosa ma dubito quindi questa di qua era il griff di oggi andiamo allo spawn come il nostro consueto fare che come il nostro consueto fare che al fine video veniamo qua tutti quanti con lo spawn a fare un pochettino di ignoranza assieme quindi ragazzi venite tutti quanti allo spawn che sto registrando e saltate youtube quindi ragazzi quindi che dire venite tutti qui a giocare che siamo noi in questo serve quindi a dire ragazzi spero questo video che vi sia piaciuto se così fosse vi darò se mi piace commentare iscrivvi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video nel frattempo questo è qua che stava fermo con lo spawn mentre io l'ho griffato ciao a tutti